Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video, un saluto da Gigi ed oggi siamo qui, ritornati su Brawl Stars in compagnia di un ospite speciale per due motivi. Il primo è perché è il nuovo membro del mio team degli Outsiders e due perché ha praticamente finito il gioco con 8-bit portandola al grado 35, quindi più di 1200 coppe, raga, che è 1250, giusto Kevin? Sì. Quindi raga, coppe che non vedremo mai con un singolo brawler noi. E niente, vabbè, insomma, prima cosa, benvenuto Kevin. Grazie. Benvenuto nel team. Adesso sei pronto ad utilizzare 8-bit in modalità e mappe in cui non c'entra assolutamente niente? Sì, sono pronto. Ok, perfetto. Vabbè. Detto ciò, raga, ovviamente un bel GG per Kevin sotto nei commenti. Iscrivetevi al canale se ancora non l'aveste fatto, veniteci a seguire su tutti i nostri social, trovate tutto in descrizione. Detto questo, raga, io direi di iniziare in dominio, in questa mappa. E che fa? Ci togli così la skin di malware? Perché è più bello con la skin. Ah, beh. La 35. Gli piace di più la skin normale? Va bene, ok. In dominio con chi ti venga ad aiutare col tuo bellissimo 8-bit? Mr. P, ma va bene anche Pam. Ah, vabbè, io Pam ce l'avevo a caso, però va bene, ok. Allora rimaniamo con Pam. Va bene. Allora possiamo andare per quanto mi riguarda, perfetto. Allora, quanto tempo fa ce l'hai portato al grado 35? Un due season fa. Due season fa, quindi già avevano nerfato Extra Life? Sì, sì. Ok, e quindi dove l'hai portato? L'ho fatto nelle vacanze, dicembre. Ok, 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 ok. E quando, cioè, in che modalità l'hai portato più che altro? Cioè dove l'hai scalato maggiormente? In Shadow. Ah, in Shadow. E dove lo fanno un po' tutti. E beh, sì, più che altro è che con Extra Life ci sta. Ma in solo o in squadra? Cioè in duo, insomma. In solo. Ah, proprio in solo? Ok, proprio... Cioè fino a mele in duo, poi... Cioè solo in Shadow, perché sennò non facevi più coppia. Ok, 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 chiaro, chiaro, chiaro. Sì, più che altro l'ho visto che la maggior parte delle persone se lo portavano su in Shadow in solo. Ok, allora... Eh, ma qua... Da vedo... Io sto anche un po' laggando. Grida, perfetto. Ah, mi ha messo le mine. Mannaggia al Bo. Maledetto. Dai, Tara, facci sto bel gra... Eh, niente. Uno non ha grabbato. Stavano tutti lì, non ha grabbato uno. Va bene comunque. Ah, va bene comunque. Ok, a posto. Perfetto. Ho visto... Che niente? Stavano contro il Carl. Eh, sì, l'ho visto in realtà. Lo sto appigliando, l'avrei ucciso, ma c'era la torretta e le mine di Bo e la torretta di Jesse, maledetta. Eh, no, Jesse poi la c-counta. Eh, sì. Più che altro poi pure con la torretta e con le mine è un macello. Ok. Eh, pure il Carl è devastante. Il Carl è devastante. Ecco, se adesso però riuscissi a fare lei un bel grabbetto... Guarda che riusciamo a vincere. Eh, sì. Perché comunque tanto adesso partono i punti doppi. Eh, mannaggia il Carl, mi distrugge. Oh, ma quello quante mine si ricarica, maledettissimo. Eh, non le vedo mai, perché le mette quando sono morti. Sì, no, ma più che altro... Eh, a parte quello non le vediamo mai quando le piazza, ma... Cioè, le... Le ha spammate a profusione. Pure la Jesse con la torretta. Guarda, 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 guarda. Ma fa il devasto, Jesse. Ok. Eh, no, Rip. Dovremmo tenere noi il centro per gli ultimi dieci secondi, ma non ce la facciamo. No. Peccato, 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 peccato. Eh, raga, la prima partita è andata così. La prima partita è andata così. La Jesse e il Bo ci hanno creato veramente grossi, 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 grossi problemi. Speriamo di rifarci in arraffagemme. Ce ne andiamo in arraffagemme, ragazzi. Ok, che mappa c'è? Ok, c'è questa qui. Con chi ti vengo a dare una mano? Una rosa. Rosa, ok, sì, perfetto. Andiamo con Rosetta. Con la prima sarà qua. Sì, 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 così mi curano i cespugli. A posto. E niente. E invece fino alle mille coppe come l'hai fatto? Sempre in showdown, in duo o neanche... Sì, in duo, c'è. Sì, in duo. Ok. Ci sta. Con Lion. Ah, proprio con Lion, ok, perfetto. Perché vengo a showdown, quindi... E che poi, tra l'altro, ragazzi, sto registrando lo stesso giorno in cui ho registrato il video che sicuramente sarà già uscito sul canale che avrete visto di Alien, che ha portato tutti i brawler al grado 30. Tutti, tutti, tutti al primo e all'ultimo. E abbiamo già dato, però, Mr. Map, ovviamente. E anche lui mi ha detto di utilizzare Rosa qui in sta mappa. Perché effettivamente ci sta. E infatti in tutte e due le partite ci siamo beccati Rosa contro. Rip. Mi ha fatto la testa del tick. Ah, siamo con un Mr. P che non è per niente male. Nel senso, il brawler non è niente male. Ora lui ci deve far vedere di cosa è capace. Vai, chiudiamo. Yes, c'è la ulti, io ancora no. Eh, mannaggia, l'ho sprecata, rip. Pensavo di riuscire a resistere. Ok, lui adesso ha richiamato la torrettina. Allora. Ok. Ma tu anche in queste modalità giochi sempre con extra life? Eh sì, sì, perché secondo me ti salva alcuni modi e ti può salvare la partita. Sì, sì, sì. Ma ecco, poi le gemme quando muori. Sì, quello è vero. L'ho scontano. Quello è vero. Ma più che altro, sì, esatto. C'è la rosa lì in alto a destra. Ma dove sono tutte? Siamo mid, siamo mid. Ok, ok. Almeno per il. Ok. Chi l'ha presa le gemme loro? Il Beryl? Rosa, rosa, rosa. No, no, rosa non le ha, rosa non le ha. Mi sa che le ha Beryl. Sì, sì, sì. Che tra l'altro non è nemmeno stellato. Sì, rosa, rosa. No. E poi attenzione, se riusciamo a farcelo esatto. No, vabbè. Vabbè, ok, ce n'ha dieci lui. Ce n'ha dieci lui. Andiamo. Andiamo a difendere. Sì, ma spero che lui non pusci a caso. Se è messo lì, non ho capito perché che lì lo chiudono easy se lo beccano. Ok, va bene. Ok, va bene. Dai, ci siamo portati a casa questa seconda partita, sì. Ci sta. Adesso ci serve qualcun altro in footbrawl. Che c'è quella mappa, se non sbaglio, larghissima, maledettissima. Dov'è? Campetto. Esatto, è campetto che è larghissima. Con chi ti aiuto invece in quest'altra mappa? Un carletto. Un carletto. Un carletto. Un carletto. E' faticissimo. Va bene, vamos con carletto, vai. Ci sta. Allora, vediamo un po' chi ci capita contro. Raga, qua utilizzano un sacco di corvi. Corvaccio in sta mappa viene utilizzato un sacco. Lo odio, infatti. Oh, 8 bit contro. Sì, 8 bit contro pure. E non ci sono corvi, né con noi, né tra gli avversari. Ah, loro hanno un tank che però, se riusciamo a zonarlo lì, provo a tenermelo io, ma non gli faccio troppissimo danno in realtà. Ok, perfetto. Con la tua torretta ora tanta roba. L'altro 8 bit non è stellato, eh. Eh, guai, c'è te il smorte. Sì, sì. Aspetta, aspettiamo. Provo di ulti, ok. Provo a tenere l'8 bit lontano. No, no, ma mi ha ucciso. Palla. No, dai, Jesse. Ripa ha provato a fare il trick. Esatto, esatto. Si è messa a fare il trick. Maledetta Jesse. Noi quando ci becchiamo le Jesse contro, stanno lì, traiardano come delle maledette e fanno quello che devono fare. Con noi provano a fare i trick. Mannaggia, mannaggia. I trick. Alla fine il bello è che non lo fanno. Eh, esatto, no, ma che poi la cosa bella, tra l'altro, è che... Cioè, ha provato a fare il trick con tutti in porta. Cioè, ho capito che Mari provi a fare il trick, sai, ce n'è uno in porta, provi a spiazzarlo. Ma il trick che stanno tutti in porta, come pretendi di poterlo fare? Ah, mannaggia, mannaggia, mannaggia. Vabbè, però almeno è stellata. Allora, c'ha... Esatto. Potete fare gol, sai? Sì, 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 sì. Eh, c'ha solamente che c'ha la ulti... Esatto, gliel'ho fatta sprecare, però sì! Ok, a posto. Grazie, grande. A posto. E ho visto che stava lì pronto con la ulti, gli ho tirato la palla, dico, sì, almeno la spreca. Infatti l'ha sprecata. Tatticissimo. Naggia, ho lisciato, prende sempre del primo. La palla qui mi mette l'ansia, con Beryl che può... Ok. Ma anche quando Rodeo la furia di 8-bit mi potenzia? Madonna, diventa devastante. Già, un botto. Ok, allora siamo in vantaggio. Io lascerei anche la palla lì e lì. Ah, però c'ha la ulti... Il Beryl. C'ha la ulti il Beryl, quindi occhio. Allora potrebbe... Ma però non c'è la star. Eh, no, 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 non ce l'ha. Infatti, meno male. Buono, buono. Sì, sì, sì. Puscia quello da quel primo. Eh, vabbè, tanto con 92 di vita. Ok. Mi puscio... No, mi ha bloccato la ulti, è vero. Mi dimentico sempre che blocca la ulti. E tanto mi fa il trick. Ah, però gli è riuscito. L'ha fatto. L'ha fatto, è bene. Ok, vabbè, si è fatta pure le 7,50. Esatto. Star player, 7,50. Vabbè, dai, te l'abboniamo il trick di prima. Ok. Allora, adesso invece ce ne dobbiamo andare. In ricercati, tra l'altro, c'è cambiata mappa. Non è buonissima. Qui con chi posso andare? Io di solito me la... Esatto. Me la faccio con un long o anche con mortis ogni tanto io me la faccio. Buono, un brocco. Come vuoi? Vai, vai, vai. Provo brocco, provo brocco. Vabbè. Così spacco anche un po' e allarghiamo se nel caso in cui ci abbiamo qualcuno che ci vuole pushare. Speriamo che troviamo un buon terzo. Eh sì, è quello ogni volta il problema in realtà. Speriamo bene. Speriamo che non ci counterino anche troppo gli avversari, sennò pure quello potrebbe essere un problema. Speriamo di non trovare un morti. Ecco, appunto. Perfetto. Meglio per noi. Oddio. Ah, l'hai messa la skin? Ok. Sì, sì, adesso sì. Ok. No, è sopra la pozza, sono morto. Ok. Sono un pareggio. Oddio, la piper è messa. Sì, ho visto. Ok, ta dalla piper. Vorrei provare a sbloccare la ulti. Brock è ancora con adesso. No, Brock sta di là che sta litigando con la B. Perfetto, bomb. Laserati proprio. Ok, il mortis. Il mortis cui c'è l'amore. Eh sì, anche perché noi siamo qui belli infuriati. Viacce, mortis, viacce. Ed aspettiamo, eh. Vai? Sì, sì, viacce, viacce. Buona. A posto, perfetto. Occhio c'è la ulti, il loro Brock, quindi... Rip. Ok, perfetto. Non te lo sei fatta te. No, è morto anche... È morta la nostra B. Siamo morta pure io. Va bene, va bene, va bene. Siamo ancora in vantaggio, però siamo ancora in vantaggio. No, l'ho ri-hittato, ma non è morto. Mannaggia, grande, grande che è? Mannaggia, avevo hittato il Brock, ma non è morto. Sì, eccolo, perfetto. Brock a destra. Sì. Hittato. Hittato di nuovo, però mi ha hittato pure lui, maledetto. Mortis c'ha la ulti, esatto. Pure Brock, pure Brock, pure Brock. Eh, mi sa che sono morto. Sì. Provo a non morire io. Mi penso che non muore anche la via. Ecco. Vabbè, però ha fatto due stelle prima di morire. No! 249 e fa la ulti. No. Non morire, non morire. Vabbè, ok. Ce l'abbiamo fatto. Ok, di una stella. Ottimo, perfetto. Tra l'altro, altissima. Sì, al pelo proprio, ma era altissima anche la B qui. Vabbè. Ok, detto ciò, l'ultima modalità, che è la tua modalità, quindi, per aver scalato con 8-bit. Ci sono anche i robottoni, quindi con 8-bit non è male. E io con chi ti vengo ad aiutare? Gary. Ok. Stessa scelta che mi ha fatto fare anche Alien su sta mappa. A posto. Quindi ci siamo. La linea tonda è quella, ragazzi. Ok. Ha già trovato. Quanti punti stellari ti dà quando arrivi al grado 35? 500. Madonna. Una skin, praticamente. Di quelle stellari, ovviamente. Ok. Uh, se ci riusciamo a fare tutte queste cassette... Eh, infatti di là c'è un altro 8-bit, esatto. Non è stellato, eh. Però, eh, non c'è la rotolata, Rip. Vedi, c'è una EMS. Io sai che ti dico. Ci provo, ok. Ho sbloccato anche l'ulti. No, 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 no. Ok, me lo far per fortuna mai hitato. Buono, buono. Andiamo a sinistra. Ok. C'è un tempo di stravo. Eh, lì si sono fatti un robottone. Eh, non lo sai. Sì, sì, sì. Ho visto. Qui c'è un altro robottone. Non so se vogliamo provare a prenderlo. Ah, prendiamo. Ok, ci sta pushando. Ci sta pushando del primo, però. Oddio, che lag. Che lag. No, ha riavato l'altro. Oh, buono. Sì, sì. Ok, sì, 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 sì. Rotolata tattica. Ok, 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 ok. Ce l'abbiamo fatta. C'è la ulti del primo. Mannaggia. L'hai messo one shot. Eh, se n'è andato proprio con la ulti. Vabbè, vabbè. Almeno l'ha sprecata. Altro robottone. Vai, vai, vai. Tanto ce lo prosciughiamo in due secondi. Tieni. Ti è. Ormai ormai... Ma non lo dovevo. Esatto. Allora, ok, 13 power up. Siamo con gli a destra. Vai. Ah, occhio, però ci sono sempre il barrel con il primo. Ah, non ci arrivo con la ulti. Non ci arrivavo. Ma provaci. Comunque, tanto Jessi non ti fa niente. Ok, ok. Ah, robottone. No, rip. Proviamoci il robottone. Vabbè. Lo facciamo su. Allora. Ok. Stavo aspettando il momento giusto. Dove vai, robottone? Dove vai? Ormai il robottone possiamo pusharlo anche così. 22 power up. Vorrebbe essere di me. Ma, eh, beh, se perdiamo adesso con 22 power up, cioè, penso che io posso chiudere il canale. Finirla qui. Un po', perfetto, è a posto. Vabbè, tanto anche da solo, cioè, dovrei riuscire a vincere, perché, porca miseria, ho 23 power up. Ok, scontro finale. Robottone. Guarda che tattica che hanno provato, ma non ce l'hanno fatta. Avremmo potuto chiudere con molti più power up, eh. Però, vabbè, chi sta. GG. GG, raga, dai, alla fine abbiamo iniziato male, ma perché non vi volevamo far vedere tutte le vittorie, perché altrimenti sarebbe stato un video noioso, ragazzi, in tutte le vittorie. Eh, già. Ci siamo risparmiati per questa super mega sopravvivenza con 23 power up. Niente, GG, ancora Kevin, che, cioè, portare un brawler a 35, penso sia anche abbastanza stressante, perché, cioè, sopra le mille, mille e cento coppe, fare trofei, insomma. L'interfezione si fanno easy, è solo che dura troppo il matchmaking, quel problema. Ah, dici quello. Però pure anche, per esempio, se fai una sconfitta, quante vittorie devi fare poi per recuperarla? Quattro. Eh, capito, cioè, penso che anche da quel punto di vista non sia facile. Comunque, raga, GG per Kevin sotto nei commenti. Ovviamente ne dici a se siete su tutti i nostri social. Iscrivetevi al canale se ancora non l'este fatto. Per noi è tutto. Ecco, vedi, ringrazio Kevin, grazie a te. E niente, raga, al prossimo video. Ciao. Ciao.